Ecco, come è stato detto anche durante la riunione nella nostra Assemblea della Fondazione, ora comincia la presentazione dei libri che si intitola Rosselliana, proprio perché c'è stato un momento nel corso di quest'anno di varie pubblicazioni sugli azionisti e in particolare su Carlo Rosselli. Vari libri, anche la Fondazione, come ricordava Valdo, ha fatto un quaderno, il numero 3 del 21, dedicato all'attualità del pensiero socialista liberale e su questo quaderno parlerà dopo anche Valdo Spini, che è il direttore, oltre che essere il direttore dei quaderni, oltre che essere presidente della Fondazione Circolo Rosselli. Iniziamo, io vorrei essere breve, non attardarmi sulle premesse, e cominciare a illustrare i vari libri che verranno presentati questa sera. In gran parte sono pubblicazioni, riedizioni di autori importanti dell'azionismo. Cominciamo con Aldo Garosci, che ha fatto uno dei fondatori di Giustizia e Libertà e poi del Partito d'Azione, che ha pubblicato negli anni della guerra, proprio a caldo, un profilo di Carlo Rosselli. Questa riedizione è stata presentata da Samuele Bertinelli, che è qui con noi e a cui cederei la parola. Samuele ha scritto molto sui nostri quaderni, già ha curato diversi quaderni del Circolo Rosselli, sul tema appunto storico e culturale. Samuele, c'è? Sì, io ci sono, mi sentite? Bene, ti passo la parola per presentare questo interessante libro. Bene, grazie. Siccome sappiamo che Samuele è uomo di poche parole, purtroppo dobbiamo mettere un limite di tempo agli interventi. Vai, Samuele. Sì, sì, ma cercherò di esserlo davvero di poche parole. Buon pomeriggio a tutti, grazie naturalmente per l'invito. Quello che è uscito per le edizioni di Storia e letteratura è un libriccino di poche pagine, a firma Aldo Garosci, che reca il titolo, è stato visto, il profilo dell'azione di Carlo Rosselli e di Giustizia e Libertà. È, credo, un contributo di un qualche significato agli studi rosselliani, perché si tratta della prima edizione in età repubblicana di un testo circolato soltanto in forma clandestina per i tipi del Partito d'Azione, i quaderni dell'Italia Libera, di Aldo Garosci, appunto il primo biografo ufficiale, per molti versi ancora insuperato, di Carlo Rosselli, e ha alcune caratteristiche che credo valga la pena siano sottolineate pur brevemente. Era un foglio di battaglie e d'azione, naturalmente, quello dei quaderni dell'Italia Libera, ma le prime pagine scritte per restituire agli italiani il profilo di Carlo Rosselli, della sua biografia politica, della sua azione, e anche quella di Giustizia e Libertà, del movimento da lui fondato, sono del settembre, della fine di settembre, per l'esattezza del 43. Il testo che noi abbiamo pubblicato, per la mia cura, è del giugno del 44. Questo già segnala un elemento di un qualche significato, e cioè vi furono varie versioni di queste paginette. Nella temperie della trasformazione febbrile dell'Italia, in quei mesi cruciali per il suo stesso destino, Aldo Garosci, che approdava in Italia dopo molti anni di esilio, e approdava esattamente in Sicilia, con lui erano anche Dino Gentili e Leo Valiani, concepì quelle prime paginette come un colloquio con alcuni compagni liberal-socialisti trovati in Sicilia, il professor Guaita in particolare, prima di riunirsi con altri compagni del fuoriuscitismo, penso in particolare a Pierleoni, che poi risalì la penisola con loro, e concepì come una conversazione, diciamo in particolare orientata ai giovani che erano rimasti in Italia negli anni terribili della dittatura, la sua riflessione su Carlo Rosselli, che si andava intrecciando con la quasi definita biografia, la sua vita di Rosselli, che uscì, come è noto, nel 1945, ma che aveva in larga misura concepito negli Stati Uniti d'America, dove si era ricoverato dopo l'invasione nazista della Francia. Quella degli Stati Uniti era stata una pausa di riflessione, anche autocritica, di riflessione sulle sconfitte e patite, sulla vicenda seguita all'uccisione a Bagnol de Lorne di Carlo Rosselli, era stata una riflessione sofferta, dolente, che aveva avviato in Garoshi una prima distinzione tra il momento della riflessione critica intellettuale e quello della battaglia politica, dell'impegno rivoluzionario, perché di questo si era trattato fino a quel momento, e come a far detonare, diciamo, questo insieme di riflessioni mettendo piede appunto nel settembre del 43 sul suolo italico in vista della tanto agognata rivoluzione democratica, sente l'urgenza, Garoshi condivisa con i suoi compagni di viaggio, in particolare con le Ovaliani, di interpellare chi era rimasto in Italia, quella Italia ignorata, di cui aveva già parlato nel suo manifesto appello agli italiani del 35, lo stesso Rosselli, che magari sotto il grigio verde o la camicia nera aveva però ambito ad una vita più alta, cioè coloro che le nuove generazioni, in particolare nate e vissute sotto il fascismo, anelavano però a una forma di vita più alta, diciamo, anelavano alla fine ad una dimensione di libertà e democrazia che il fascismo evidentemente negava. Quindi questo carattere di colloquio con le nuove generazioni, questa idea di agitare delle idee appunto e di proporre il profilo di Rosselli, si forma non appena arriva in Italia, ma si modifica nel corso del tempo. Con le edizioni di Storia e letteratura abbiamo individuato uno dei testi usciti in quei mesi, ci furono diverse versioni fino all'inizio del 45, quello che ci sembrava più significativo del giugno del 44. Perché? Mi avvio rapidamente a concludere. Perché il testo del giugno del 44 è un testo mediano, tra gli altri usciti in diversi luoghi, in diversi momenti, d'altra parte la clandestinità rende anche difficile identificare esattamente i luoghi e i tempi delle uscite, ma questo del giugno del 44 è un testo che esce a firma Garoshi ed è un testo che sostanzialmente fa i conti con la svolta di Salerno, che si era determinata poche settimane prima, e con la presa d'atto di Garoshi intervenuta nel corso dei mesi precedenti, diciamo dal settembre del 43 a quella primavera del 44, della impossibilità di far risorgere giustizia e libertà sotto le sue insegne e sotto il motto, diciamo, rosselliano, di sorgere per risorgere una prospettiva, quella della rivoluzione democratica, che Aldo Garoshi, che era stato braccio destro di Carlo Rosselli, come è noto anche nella guerra di Spagna, il punto più alto per Garoshi della parabola rosselliana, oltre che quello conclusivo, bene, Garoshi prende atto che quella idea originaria, cioè di far rinascere giustizia e libertà, sostanzialmente non era più possibile. Cioè, fai conti con una dimensione, quella del partito d'azione, che era nato nel 42, che era nato per impulso di un'area piuttosto liberal-democratica e socialista, in particolare per l'azione di Lamalfa, naturalmente molti altri, e anche con il contributo significativo dei liberal-socialisti, i quali però non avevano mai, questi ultimi liberal-socialisti, conosciuto, i socialisti liberali, che si erano impegnati in giustizia e libertà e che erano stati all'estero. Quando Garoshi rientra in Italia, pensa che sia possibile far rivivere le battaglie di giustizia e libertà, perché pensava che fosse necessario che il carattere di liberazione dell'asifascismo della penisola avesse il segno distintivo della rivoluzione rosselliana, cioè della rivoluzione democratica. Si rende presto conto che non è così, che il partito democratico, scusate, che il partito d'azione ha componenti democratiche al proprio interno, come dire, plurali, molte e diverse, che lo spazio per riesumare, diciamo, le battaglie rosselliane è uno spazio che è residuo e che la prospettiva della rivoluzione democratica intesa senza attitudini compromissorie, cioè una soluzione di continuità, non soltanto con l'Italia fascista, naturalmente, ma anche con la Italietta liberale che aveva preparato il fascismo, quindi di contro all'Eri, dicevamos, anche di intellettuali, della caratura di Benedetto Croce, anche di figure di riferimento del mondo antifascista, ma insomma l'ansia di fare i conti con le tare storiche della unità d'Italia, cioè di fare della resistenza che stava avvenendo il secondo risorgimento d'Italia, era un'ansia che non trovava, come dire, interpreti, compiutamente almeno, neanche il partito d'azione, tant'è che queste pagine del giugno del 44 prendono atto che il partito d'azione può testimoniare un punto di vista in una situazione però che agli occhi di Garoshi appare già paradossalmente prima ancora della liberazione dell'Italia, quando era ancora incerta la possibilità stessa della liberazione dell'Italia, compromessa. da una parte, qui c'è un elemento di profezia quasi nelle pagine garosciane, da una parte c'è la limpida visione dello scontro in atto in un'Italia divisa in tre, come è noto, con il regno, con la monarchia o quel che ne restava a Brindisi, con il fronte nel centro Italia, aperto e con la guerra civile che imperversava sostanzialmente nel nord dell'occupazione nazifascista della Repubblica di Salò, Garoshi, che dà vita a queste pagine Repubblica a Roma nel giugno del 44, sente che questa dimensione di guerra civile era una dimensione strutturalmente rilevante anche per il futuro dell'Italia, che si trattava di fare i conti con un cospicuo residuo di fascismo anche dopo la caduta di Mussolini nel 25 luglio del 43, non casualmente avvenuta per mano fascista, perché di questo si trattava, gli azionisti sono tra i pochi che fanno i conti fin da subito con questo elemento storico rilevante, Mussolini cade per un golpe interno diciamo, non per la rivoluzione democratica per l'appunto e soprattutto sente con forza dopo la svolta di Salerno in particolare, cioè dopo il riconoscimento da parte dell'Unione Sovietica del governo di Brindisi e dopo l'indicazione di Togliatti di allargare il fronte per un governo di unità nazionale sostanzialmente che non risolvesse l'embeguità nel rapporto con Badoglio e con l'esperienza del governo dei 45 giorni sente in modo più acuto anche di altri azionisti che lo spazio per una presenza originale autonoma come quella del socialismo liberale è uno spazio destinato a comprimersi fino a scomparire e sente che avrebbero avuto dalla loro il futuro dell'Italia i partiti con più antico radicamento popolare ma soprattutto con maggiori relazioni internazionali dunque sono pagine che hanno anche una loro amarezza che però chiudono come dire una sorta di ritratto in piedi di Carlo Rosselli paradossalmente come ancora più luminoso cioè si fanno più intime quasi le riflessioni sulla figura di Rosselli e sull'esperienza storica di giustizia e libertà e se ne rivendica soprattutto il portato morale l'indicazione dello sprofondamento di civiltà che per Rosselli era stato il fascismo come in positivo esigenza di una rinascita di civiltà cioè una visione positiva dell'antifascismo una rivoluzione morale appunto prima che materiale quasi spirituale potremmo dire nel mentre si rende conto che la democrazia italiana sta nascendo sotto l'insegna dei grandi partiti già claudicante quindi sono pagine che inducono a riflettere forza anche sull'Italia di oggi grazie Samuele veramente interessante questa parte della di Aldo Garosci su Carlo Rosselli il secondo libro e anche questo è una rivisitazione su Emilio Lussu che ha scritto Diplomazia clandestina la presentazione di questo libro è stata fatta di questa riedizione è stata fatta da da Spini e quindi penso che poi gli farò delle domande una domanda su questo su questo libro intanto per parlarne abbiamo chiamato Ariane Londuit che è professoressa di storia contemporanea all'università di Siena alla quale cedo la parola grazie mi si sente? sì non si vede non mi vedi? come faccio? basta schiacciare il video sulla sul video c'è una sbarra rossa la togli così? non si vede nulla ma si si vedeva prima per cui deve essere un aspetta a cliccare sulla camera condivido schema no no in fondo a sinistra c'è scritto disattiva audio disattiva video oddio ora ho fatto subito un arrosto niente guarda è molto semplice in basso a sinistra ci sono due due loghi uno per l'audio uno per il video basta schiacciare aspetta credo di aver fatto la composta personale noi la leggiamo volentieri oddio dunque e ora poi non mi si vede più per niente e io non vi vedo più cosa ho fatto un disastro ecco ecco vedi in fondo a disattivare il suo antivirus può darsi che è quello che non le fa condividere il video aiuto siamo in fondo di attiva video in fondo a sinistra non c'è a sinistra c'ho disattiva audio disattiva video no perché è attivato il suo video però non la riprende con la fotocamera quindi sono due le opzioni o la fotocamera è oscurata o è l'antivirus che le impedisce di di vedere l'immagine a noi su zoom se lo sentiamo sentiamo oralmente senza esco ma guarda che cosa lo sapevo io queste cose ancora sono ferma però la voce la sentiamo bene via ma guarda che cosa ho ferma però la voce la sentiamo bene via ma guarda che cosa ho ferma però la voce la sentiamo bene mi sentite ora sono su facebook però si sente brimbombo così del suono è meglio se lo chiude facebook propongo di andare a un'altra presentazione nel frattempo Ariane cerca di risolvere i suoi problemi va bene aspetta propongo di andare a un'altra presentazione nel frattempo Ariane cerca di risolvere i suoi problemi va bene sì sì va bene sì sì bene allora il prossimo libro è quello che raccoglie articoli di Bernieri e Rosselli e Carlo Rosselli dal titolo provocatorio contro lo Stato si tratta di Bernieri che era un anarchico che in Spagna con Carlo Rosselli si sono scambiato una serie di articoli a curare questo libro è Enzo Di Brango che non vedo in questo momento io lo vedo lo vedo a cui cedo la parola per presentare questo interessantissimo libro grazie grazie per questo invito davvero gradito anche da parte del mio editore cosa dire è stato un lavoro veramente particolare perché era partito come uno studio del dialogo fra due componenti libertarie perché siamo nel momento in cui Carlo Rosselli proclama giustizia e libertà come militanti libertari del ventesimo secolo e Camillo Berneri ed una fetta della componente anarchica che noi sappiamo è molto variegata come ragionamento possibilista in che senso io sono rimasto colpito anch'io come diceva prima nella presentazione dal titolo provocatorio contro lo Stato di questo articolo di Carlo Rosselli apparso nel 34 sul settimanale giustizia e libertà perché evidentemente c'erano tutta una serie di motivazioni che portavano il nostro ad avere una posizione assolutamente critica contro lo Stato sappiamo però anche che in quel determinato periodo lo Stato era rappresentato dal fascismo da un regime totalitario che aveva costretto non solo Rosselli ma migliaia di antifascisti a rifugiarsi all'estero mi ha colpito perché in realtà anche nella sua conclusione ho notato una certa affinità di pensiero con Camillo Berneri questo non ci meraviglia troppo perché sappiamo perfettamente che nella storia di giustizia e libertà ma anche prima nella storia del famoso circolo di cultura di Firenze Berneri e Rosselli collaborarono attivamente a questa piccola associazione di compagni che ragionavano sulla situazione specifica italiana ma ci sono dei passaggi che mi sono sembrati assolutamente interessanti dal quale poi è partito tutto un ragionamento complessivo perché in realtà nella catena continua degli articoli che ho avuto modo di leggere e di consultare c'è soprattutto una grande freschezza di argomenti temi che sono spendibili al giorno d'oggi in maniera straordinaria parlo per esempio del federalismo dell'organizzazione dello Stato e tutto era cominciato proprio così una decina d'anni fa mi ero interessato durante il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia mi ero interessato all'argomento e in un saggio critico ho raccontato quale grave dramma è stata l'avere scartato l'opzione di una costruzione di uno Stato federale in Italia a vantaggio di uno Stato centralizzato e quindi partendo da Cattaneo mi sono imbattuto poi in Salvemini e Rosselli e poi Berneri con una certa convergenza che effettivamente mi ha stimolato poi a raccontare la storia è una curatela che dà spazio principalmente ai testi degli articoli sono quasi tutti tratti da giustizia e libertà perché il dibattito poi si apre con una lettera di un anarchico siciliano un certo consiglio che lamenta il fatto che in quel periodo specifico siamo nel 1935 molti anarchici stiano convergendo verso giustizia e libertà non solo per la novità e per la novità assoluta del pensiero e del modo di ragionare quanto anche per la capacità di muoversi con l'azione è lì che interviene Berneri e devo dire c'è una sorta di vicinanza che poi maturerà anche nei primi mesi della guerra civile spagnola quando la cosiddetta colonna Rosselli fu ricca di presenze anarchiche è qualcosa che ho pensato soprattutto per le giovani generazioni noi siamo in una fase nella quale sono caduti i miti delle grandi ideologie soprattutto quello comunista che ormai si è polverizzato e mi sono accorto nelle occasioni che mi sono state date di parlare con i giovani che c'è un certo interesse vivo per la storia e per l'attività di giustizia e libertà noi siamo io sono il vicepresidente del circolo di Roma ancora una piccola realtà resistente nella capitale ovviamente con molta fatica soprattutto in quest'anno e mezzo di lockdown ma lanciare questi messaggi ai giovani far capire in un momento in cui abbiamo celebrato proprio l'altro ieri la ricorrenza della cosiddetta strage di Stato in cui lo Stato riusciamo a metterlo in difficoltà con locuzioni che sono ormai entrate nel linguaggio comune quando parliamo di strage di Stato diciamo una cosa molto grave in realtà però è così chiaro e così evidente ed è anche un messaggio così forte che noi non lo cogliamo nella sua essenza quanto più nel fatto che allo Stato va riconosciuto anche il titolo di poter essere stragista ed è una cosa davvero terribile in una fase nella quale ancora queste situazioni particolari tutte italiane si deve aggiungere la costruzione europea si deve aggiungere la federazione chiamiamola tra virgolette federazione perché avrei molte riserve su questo termine da affidare all'Europa attuale e quindi una sovrastruttura nazionale che si sovrappone ad uno Stato nazionale con cessioni di sovranità che sono logiche altre che risultano meno logiche con uno Stato nazionale che ha delega su tanti dei diritti civili dei cittadini e sui quali spesso non riesce non riesce a ragionare in maniera serena in maniera corretta e anche in maniera aperta verso quelle che sono determinate aspettative le cito a loro ma parliamo dei matrimoni dei matrimoni di omosessuali parliamo della legge sull'omofobia parliamo di tante questioni sulle quali ormai questa società pare essere matura ma che non trova risposte all'interno di chi dovrebbe rappresentarla e quindi è in questo senso che ho recuperato anche un ragionamento che mi tremeva far capire a tanti che si approcciano anche all'anarchia con un pensiero abbastanza semplice nel senso di assenza di ogni regola o abbattimento totale dello Stato Rosselli conclude il suo articolo scrivendo avremo bisogno anche domani di un'amministrazione centrale di un governo ma così l'una come l'altro saranno agli ordini della società e non viceversa l'uomo è il fine non lo Stato ho scoperto che nel 1922 su pagine libertarie Bernieri anarchico scriveva praticamente allo stesso modo e scriveva così come impalcatura amministrativa lo Stato non si può abbattere si può cioè smontare e rimontare ma non negarlo poiché ciò arresterebbe il ritmo della vita della nazione quindi ragionare su questi termini nel momento in cui si costruisce l'Europa nel momento in cui abbiamo un quadro nazionale ancora abbastanza confuso perché vorrei far notare che anche nel modo di presentare le cose spesso ci facciamo prendere da facili semplificazioni che così non dovrebbero essere prese nel senso abbiamo tutti la commissione di trovarci di fronte di fronte ad un governo di unità nazionale che rimette in sé tutto lo scibile quindi ha una un consenso enorme io mi sono messo per per diletto a rimodulare i chiesti elettorali del 2018 e ho scoperto che su 46 milioni e 600 mila elettori questa maggioranza sommando i voti dei partiti conta su 17 milioni e 650 mila voti quindi conta una percentuale del 37,9% di consenso nella popolazione italiana ovviamente tenendo presente che c'è stata una forte astensione un'astensione intorno al 27% ad oggi pensare che rappresenti tutta l'Italia onestamente mi sembra più un un gioco di potere che non una realtà vera e propria quindi indurre al ragionamento ad entrare di più nelle questioni che vanno guardate con occhio critico non vanno assorbite così come ci vengono presentate perché anche in questo caso sappiamo tutti quello che è stato quello che è stato e quello che è tutt'oggi il sistema di informazione complessiva pensavo di far cosa buona mettendo su carta questi articoli di giustizia e libertà e soprattutto spero per chi leggerà che siano che abbiano la possibilità di cogliere la freschezza di quegli argomenti che sono stati scritti quasi 90 anni fa e che oggi ancora si leggono con un piacere incredibile e veramente con una passione non non semplice grazie molte e il libro l'ho visto l'ho letto è interessante non vedo ancora Ariane la professoressa no però lei c'è non la sento è rientrata nel forse potrebbe parlarci pronto Ariane ci senti? ci sente audio eccolo mi sentite? ne contenteremo dell'audio no è una cosa pazzesca devono essere ho messo degli antivirus oddio ma all'inizio si vedeva mi sembra infatti è quello che dico com'è possibile mi dispiace avete provato a ricollegarvi? ora sì l'audio c'è no? sì sì l'audio c'è ora provo a vedere l'antivirus non riesco a staccarlo dunque diamo un attimo impostazione video allora l'ascoltiamo devono esserci sì e mi sa che si finisce in questo modo ma non mi dunque diamo un attimo scusi sicurezza rinominare si attivare proprio avvia video no non succede nulla? no bisogna aspettare qualche secondo ecco ancora no perché ora l'avrei attivato no ma è la cosa dell'antivirus è meglio se deve essere l'antivirus che mi ha già fatto dei problemi e me li sta ancora facendo io avevo messo anche la la l'ascoltiamo sì magari diamo fissa la copertina sì dunque codice di errore no la cosa è che evidentemente sì niente ok va bene mettiamo la copertina eccola qua e la ascoltiamo professoressa allora la cosa dunque cosa ho dieci minuti sì allora intanto trovo molto interessante questa iniziativa di presentare di fare una riflessione sui volumi insieme che è molto stimolante e particolarmente stimolante ho trovato il volume che mi è stato affidato cioè il volume appunto di lussu questa diplomazia canestina che è stato pubblicato per la prima volta alla fine mi sembra nel 55 dalla nuova Italia e poi nel 56 e successivamente a Milano dalle edizioni da Lai nel 2010 e poi quest'ultima edizione promossa da Valdo diciamo la casa editrice diciamo la via la casa editrice e e e e e la casa editrice io non la vedo qua The Doc Company eh ok vedevo le altre ma non ho questa e tra l'altro una casa editrice i cui titolari sono soci della fondazione Modena se non vado errato o Reggio Emilia c'è Giorgia Salamini che la rappresenta no mi sembra non so andiamo avanti sì sì dunque ecco è un volume che devo essere sincera ho letto di un fiato con estremo interesse che è stato un interesse da storica da un lato ma anche come dire da lettrice eh qualunque dall'altro cioè in qualsiasi modo questo volume ti coinvolge fortemente questa è una delle qualità di lusso che d'altronde noi ritroviamo anche negli altri volumi che lui ha scritto sono volumi eh in realtà di uno scrittore noi pensiamo sempre a lusso come uomo politico resistente ma in realtà eh leggendo le sue pagine noi ci rendiamo conto che lui è anche uno scrittore e un grande scrittore cosa che forse non è mai stata abbastanza sottolineata ci sono due altri suoi libri molto interessanti è un anno sull'altopiano che ricorda la sua vicenda durante la prima guerra mondiale e e l'altro invece appunto che riguarda la diciamo la l'arrivo di Mussolini al potere con la marcia su Roma ora questo volume riguarda un periodo ben particolare della vicenda di Lussu e cioè il periodo che va dal giugno del 40 all'estate del 43 un periodo estremamente breve ma densissimo nella vita di Lussu densissimo perché lui che si trova già all'estero in Francia in appunto dopo essere fuggito dall'Italia passa durante questo periodo attraverso vari paesi in un'attività incessante di resistente nel tentativo di tessere le fila di della resistenza non solo italiana ma di connetterla con quelle che sono le resistenze all'estero in particolare quella francese e con quelli che sono i governi ancora in piedi cioè la Gran Bretagna e gli Stati Uniti contro diciamo la la Germania nazista e l'Italia fascista giugno del 40 la Francia viene invasa dalla dalla Germania che occupa diciamo dilaga veramente in Francia e occupa Parigi Parigi che per anni è stato il il rifugio di tutta la diciamo l'emigrazione politica non solo italiana ma di tutti i paesi europei dove i regimi fascisti diciamo o filofascisti avevano trovato rifugio e quindi c'è una vera e propria ondata di questi rifugiati che si avvia verso il sud della Francia una vera e propria colonna come la descrive Lussu che diciamo si svuota Parigi completamente per collocarsi da Lione in giù in tutte le città del sud della Francia in particolare Marsiglia ora ora la cosa che è interessante in questo caos ho perso il momento i punti di riferimento diciamo il modo con cui Lussu racconta queste vicende che noi tutte in generale conosciamo è diverso dalla diciamo dall'approccio di storico o anche di memorialista è un approccio intenso fortemente emotivo che utilizza un approccio a tutte queste vicende che coinvolgono il lettore in modo estremo ci sono appunti per esempio c'è un punto all'inizio quando lui parla di lui parla di dell'uscita della fuga di Parigi e parla di questa Parigi dove sembra che la Francia non voglia più lasciare il cuore della Repubblica e commenta il fumo dei depositi militari di nafta e di benzina bruciati sotto i grandi porti del nord scendeva per la vallata della Senna e dava a Parigi un aspetto infernale allora ci sono tutte queste osservazioni che lui fa che che Lussu fa appunto raccontandoci la sua vicenda estremamente vivaci direi quasi cinematografiche noi abbiamo le immagini che scorrono sotto i nostri occhi e questo è direi un elemento molto importante mi fa mi porta ad una riflessione generale cioè come il fare storia necessiterebbe anche della capacità di una di un impulso di dare un impulso emotivo al proprio lettore di raccontare in modo in cui anche le emozioni entrino nel racconto e non ne lasciano e non lo lasciano ad essere semplicemente una scheda un po' burocratica magari molto documentata di note ma fredda ecco io penso che libri come quello di Lussu porterebbero alla comprensione di quello che è stato il fascismo forse molto più di tanti libri molto più dotti scritti successivamente e però torno ora a questo volume ora la cosa interessante è che Lussu ci mostra questa rete di contatti e li fa vivere cioè ci sono i contatti con quello che è il mondo francese che inizialmente come si parte parte da cosa dal contatto con Cremieux che è stato che diciamo è un alto funzionario del governo ma che è stato per anni a Firenze all'istituto francese di cultura e quindi ha conosciuto tutto il mondo culturale della Firenze che conosce bene anche Lussu il mondo del post guerra e Salvemini tutto il gruppo che ruotava intorno a Salvemini e quindi è estremamente interessante perché delle persone che contattano non ci dà solamente il nome questo mi sembra molto importante e cosa che non è sempre come fatta dagli storici ma ci dà anche un brevissimi cenni quelli giusti per farci vivere e vedere quali sono questi personaggi come sono solo aver accennato questi elementi noi vediamo anche che tipo di funzionario francese entra in contatto con Lussu e quindi il tipo di informazioni che gli può passare l'appoggio che gli può passare e così via via anche nel resto del volume noi vediamo questo stesso tipo di approccio questo fiume di macchine di fuggitivi verso il sud della Francia di nuovo lui lo dipinge con pennellate estremamente intense e vivaci fino ad arrivare in un primo passo a Tolosa dove appunto noi sappiamo che viveva Trentin appunto altro membro fondatore di giustizia e libertà che a Tolosa dopo varie vicende lui era uno degli undici unici professori universitari che avendo rifiutato di giurare fede al fascismo aveva dovuto abbandonare il suo posto il suo benessere e rifugiarsi all'estero a Tolosa lui crea una piccola libreria la libreria di log doc che diventerà un centro culturale politico estremamente vivace estremamente importante che sarà un punto di riferimento non solo per i rifugiati politici italiani ma per quelli spagnoli siamo infatti molto vicini alla Francia svolgerà un ruolo importantissimo con la guerra di Spagna ma anche degli altri rifugiati dell'Europa dell'est e rifugiati alcuni anche che vengono tedeschi che hanno rifiutato il nazismo e quindi è veramente come dire in piccolo una piccola Europa futura quella che ci si prepara a costituire tutti insieme quindi Lussu arriva da Trentin via ospite con la moglie Joyce che egli costantemente nomina e sottolinea e ne sottolinea il ruolo importantissimo anche nella propria azione noi sappiamo che Joyce Lussu Joyce Salvadori è stata una personalità di estremo spicco una donna coraggiosa e brillante e va detto che Lussu non la mette assolutamente mai in ombra anzi in questo suo racconto lei lui sostiene giustamente che non avrebbe mai potuto realizzare tutto questo percorso difficilissimo in clandestinità in questi anni senza averlo condiviso con Joyce proprio per la competenza le competenze la prontezza la vivacità la conoscenza delle lingue della moglie da da Tolosa Lussu e Joyce scendono però a Marsiglia perché perché a Marsiglia diciamo c'è un centro organizzato ovviamente sempre clandestino da parte degli emigrati in contatto con gli Stati Uniti hanno messo su un centro di stampa ovviamente clandestino di documenti che con molta come dire fierezza Lussu ricorda di avere dato non solo agli italiani ma a tutti coloro che ne avessero avuto bisogno e quindi i francesi e quindi tutti gli altri emigrati clandestini che arrivavano lì e senza negarla a nessuno e senza chiedere un soldo a nessuno mentre era noto che i centri che stampavano questi documenti clandestini che si trovavano a Marsiglia li vendevano a carissimo prezzo e questo come dire è un altro punto che sottolinea una dimensione di un personaggio che ha la patria nel cuore ma non è nazionalista nel senso più brieco del termine ma anzi appunto sostiene tutti coloro che combattono per la libertà e per la democrazia che sono considerati tutti fratelli da Marsiglia Lussu viene sollecitato dagli amici degli Stati Uniti a recarsi negli Stati Uniti per prendere contatto direttamente con i politici statunitensi ancora gli Stati Uniti non sono entrati in guerra e qui c'è molta esitazione da parte di Lussu perché questi elementi sono interessanti l'intensitazione lui non ha molta voglia di andare perché perché negli Stati Uniti in realtà la Mazzini Society che si è costituita intorno al gruppo anche diciamo a cui ha partecipato inizialmente anche Salvemini ma da cui poi lui si staccherà Max Ascoli e tutto il gruppo appunto che ruotava di intellettuali che ruotava intorno appunto a questa intorno a in realtà Salvemini e Ad Ascoli in realtà hanno come loro punto di riferimento ideale personaggio da proporre al ritorno in Italia quando il nazifascismo fosse stato vinto Carlo Sforza ma Carlo Sforza liberale pur essendo un personaggio di altissimo valore anche lui sarebbe a lungo da parlarne però ha una visione diciamo strategica completamente diversa da quella di Lussu cioè lui e il gruppo della Mazzini Society vogliono creare una vera e propria legione di italiani all'estero che dagli Stati Uniti vada in Italia e qui affianchi eventualmente chi si ribele in Italia ed eventualmente appunto scusate ed eventualmente anche anche appunto quelli che poi saranno gli alleati cioè appunto Stati Uniti ed Inghilterra che entreranno cioè l'Inghilterra è già in guerra ma gli Stati Uniti che entreranno in guerra più tardi dopo per l'Arbor ora la differenza di approccio è fondamentale perché perché diciamo il gruppo della Mazzini Society è convinto di poter diciamo portare dall'esterno con questa legione una chiave di riscatto per gli italiani ma non è così non è così per l'Ussu e lo sottolinea e già in queste sue parole si prefigura quello che sarà poi il suo ruolo di partigiano nella resistenza cioè lui sottolinea che l'unico riscatto che gli italiani possono avere rispetto ai 20 anni di fascismo qual è? è quello che diciamo la rivolta nasca dall'interno del paese si organizzi proprio da questo diciamo dagli italiani stessi ancora presenti nel paese e attraverso la loro lotta riscatti riscatti anche l'immagine dell'Italia e consenta a loro di avere un rapporto alla pari con gli altri paesi tuttavia e quindi diciamo lo scontro non è piccolo altro punto molto interessante che sottolinea Lusso è che per lui la questione politica passa in primo piano rispetto a quella militare passa in primo piano rispetto a quella militare anche se lui in realtà è uno dei pochi che hanno una grande esperienza militare non dimentichiamo il suo ruolo avete staccato il mio audio la sentiamo posso andare avanti perché ho avuto una scritta che era stato disattivato l'audio pronto la sentiamo può parlare posso andare avanti certo e e quindi diciamo che appunto nonostante lui sia quello che dal punto di vista militare è indubbiamente forse quello più esperto però quello che gli interessa è la dimensione politica per il dopo soprattutto non vuole che l'Italia si trovi in una situazione in qualche modo subalterna rispetto agli altri paesi che sono entrati in guerra contro il nazifascismo cerca quindi altre vie e cercando queste altre vie propone propone accidente e scusate è proprio una cosa disastrosa e in questo tentativo cerca di mettere a punto un suo progetto che è quello di creare diciamo gli elementi gli inizi di una rivolta all'interno dell'Italia e da dove doveva partire questa rivolta dalla Sardegna ovviamente il suo diciamo la sua militanza la sua fondazione del partito sardo d'azione nel dopoguerra contribuisce a questo a questa sua idea però lui è convinto che in Sardegna proprio per la partecipazione in prima linea della brigata Sassare la prima guerra mondiale per il legame che lui ha mantenuto con questa con questi diciamo con Melitoni con la nascita del partito d'azione sardo poteva lì nascere dall'interno dell'isola una un nucleo italiano che poi poteva diciamo diffondersi anche nelle altre regioni in questo senso lui ora mi avvio a finire cercherà andando recandosi a Gibilterra a Malta di trovare aiuti in questo senso non li troverà e sarà costretto ad andare negli Stati Uniti e lì come aveva previsto non come dire gli incontri non funzioneranno avrà solo l'appoggio sotto il profilo economico degli sindacati italo-americani ma dal punto di vista politico e militare non accadrà nulla ritorna ritorno in Inghilterra e ancora qui direi che si sente il clima l'emozione va in Inghilterra e in Inghilterra direi ci sono tutta una serie di incontri piuttosto glaciali con una realtà che tende a vedere un'eventuale strumentalizzazione di lui come possibile agente inglese in Italia ancora una volta chiarisce che questo assolutamente è fuori questione che lui sarà solo se sarà mai un agente italiano per l'Italia e basta e lascia l'Inghilterra torna in Francia e poi dalla Francia siamo nell'estate del 43 il primo scossone del fascismo avvenuto con il 25 luglio tornerà in Italia e qui si tufferà con tutte le sue competenze nella impresa partigiana e però continuando a mantenere vivi quelli che sono stati i principi già maturati durante questo percorso grazie scusate mi sono stata un di mezzo visi grazie professoressa grazie nonostante le difficoltà e ora c'è l'ultimo libro che presentiamo è quello di Mauro Bagni che ha fatto la biografia di Ottorino Orlandini una figura particolare azionista cattolico che diventa azionista e ha una storia veramente intensa di sindacalista della terra all'inizio nel Mugello e poi e poi e poi ce lo dice l'autore Mauro Bagni che è anche l'editore del libro buonasera a tutti penso che spero che mi sentiate che non ti sentiamo bene benissimo allora intanto grazie a tutti soprattutto per l'invito per me è un onore essere accostata accostata a questo mio libro accanto a questi autori e questi personaggi però penso che Orlandini meriti questa questa presenza e questa presentazione stasera intanto perché come è nato questo libro così occupandomi di storia locale a Scandicci rimetti l'audio Mauro rimetti l'audio rimetti l'audio eccolo no rimettilo eccolo bene vai vai ok forse allora non era conosciuto da nessuno cioè praticamente anche i pochi democristiani rimasti lo conoscevano vagamente quindi mi è sembrato giusto che Scandicci si riappropriasse di questa figura abbiamo fatto un lavoro insieme a una collaboratrice Antonella Coli che vedo qui presente soprattutto basandoci sui documenti di archivio dovevamo ricostruire questa vita perché ci eravamo accorti che praticamente circolavano delle notizie così abbastanza vaghe spesso ripetute con alcune imprecisioni che si ripetevano abbiamo consultato parecchi archivi e quindi abbiamo evitato qualsiasi approccio di tipo ideologico e credo che siamo riusciti a ricostruire un profilo abbastanza completo e che anche interessante chi è Ottorino Orlandini per molti forse è necessario dirlo era il figlio di un mezzadro pisano che quando Ottorino era il settimo figlio di Otto quando aveva appena sette mesi si trasferì con la famiglia praticamente la famiglia si trasferì a Mosciano sulle colline di Scandicci che allora si chiamava Casellina e Torri ebbe la fortuna di fare le giuste che la sua famiglia avesse le giuste conoscenze per cui fu preso in simpatia e fu mandato a studiare al convito della calza il seminario minore di Firenze e grazie alle sue qualità al suo impegno riuscì arrivare fino a fare tutto il liceo classico poi si iscrisse all'università però nel frattempo era andato volontario durante la prima guerra mondiale come sottotenente e rimediò tra l'altro nella campagna di Macedonia un enfisema pormonare poi praticamente con il primo dopoguerra inizia la sua la sua odissea praticamente dico subito che Orlandini ha attraversato i momenti cruciali tutti i momenti cruciali della prima metà del secolo scorso fece la conoscenza di Sturzo e si iscrisse al Partito Popolare e si impegnò come sindacalista nelle righe bianche del Mugello a difesa delle rivendicazioni dei mezzadri e lì fu praticamente fece un'avvertenza durissima con la con la grande proprietà locale e le bande fasciste fiorentine praticamente avevano già condannate a morte e riuscì a scappare a girare tutta l'Italia arrivò perfino in Calabria poi nel 26 dovette come la maggior parte degli antifascisti italiani emigrare in Francia in Francia si accostò a giustizia e libertà e poi soprattutto in Spagna nel 36 lui la fece tutta la guerra entrò subito in azione sul fronte aragonese nella nella colonna a scaso che è la colonna italiana di italiani prevalentemente anarchici e fece la conoscenza di Carlo Rosselli questa questa conoscenza era basata su una simpatia reciproca notevole Rosselli Rosselli lo aveva proposto come comandante uno dei comandanti della brigata e però fu rifiutato dagli anarchici perché considerato una spia del Vaticano e questo fece arrabbiare moltissimo Rosselli siccome nel frattempo era stato ferito nella battaglia del Monte Pelato abbandonò poi dopo addirittura ritornò in Francia dove poi praticamente fu ucciso Orlandini e Rosselli si vedevano continuamente quando Rosselli era ferito e stava nell'ospedale di campo la sera lo andava a trovare e parlavano molto erano veramente molto vicini Orlandini Orlandini era una persona non era un grande ideologo era un uomo d'azione e praticamente era disponibile a tutti non era era un cattolico e osservante ma soprattutto la sua alla sua base di della fede cristiana era la carità quello che lo spingeva a fare tutto ed era sempre disponibile all'incontro con gli altri aveva sempre non aveva mai pregiudizi lo ha sempre dimostrato in questa sua vita molto intensa e lo leggiamo nelle memorie che lui ha lasciato e che da 50 anni attendono di essere pubblicate tra l'altro quest'anno ricorre proprio il cinquantesimo della sua morte e all'inizio cioè si era ben disposto sia nei confronti degli anarchici sia nei confronti dei comunisti però da tutte e due fu ebbe un rapporto burrascoso alla fine proprio soprattutto con i comunisti che anche loro nelle memorie si legge proprio che Longo l'aveva condannato a morte e lui riuscì a sfuggire a questo destino come gli succederà poi successivamente quando durante la lotta liberazione la banda carità l'aveva imprigionato e l'aveva praticamente in mezzo l'aveva resso quasi irriconoscibile persino ai suoi amici finita la guerra civile spagnola dovette andare come la maggior quasi centinaia di migliaia di antifranchisti essere rinchiuso nei campi di vergogna di prigionia francesi poi dopo le vicende della resistenza francese con l'otto settembre rientro in Italia e entrò nel partito d'azione ed faceva parte della commissione militare con doveva agire nella zona che dal Mugello che conosceva benissimo arrivava fino alle colline di Scandici e ebbe fece amicizia con con tanti personaggi della resistenza toscana fiorentina col quale rimase in amicizia fino alla morte poi dopo uscì dal partito d'azione perché aveva un non era in buoni rapporti con Tristano Podignola rientrò nella democrazia cristiana e riprese il suo vecchio la sua vecchia impegno sindacale nella Federterra e poi dopo la scissione in quella cattolica e poi fu consigliere comunale per due legislature a Scandici praticamente il giudizio che meglio riassume la sua il suo impegno è quello di Carlo Francović che di cui era particolarmente amico una delle più umane figure della resistenza toscana ed uno dei più coraggiosi combattenti della libertà sempre preciso nelle sue decisioni sempre puntuale agli appuntamenti più rischiosi visse gli ultimi anni della sua vita appartato con un modesto impiego sindacale nulla aveva chiesto per quanto aveva fatto e ben poco aveva avuto praticamente noi siamo convinti di avere compiuto il nostro il nostro compito e soprattutto perché siamo riusciti anche a trovare lui praticamente non solo non era non era ricordato ma non si sapeva nemmeno dove era sepolto siamo riusciti a farlo attraverso così contattando un paio di nipoti che avevamo reperito di Ottorino Orlandini e nel piccolo cimitero di Mosciano finalmente insieme al comune di Scandici e anche con l'impegno di dello scultore Paolo Staccioli siamo riusciti a dargli una degna sepoltura siamo convinti concludo credo di aver rispettato il tempo che Orlandini sia una figura lo diceva prima di Brango il problema dei giovani di far conoscere ai giovani queste figure cioè Orlandini è atipico certo il cattolico lui aderiva al liberazzocialismo di Carlo Rosselli anche se ogni tanto si poneva dei problemi di coscienza sia quando doveva sparare in guerra sia quando doveva compiere missioni pericolose nell'inverno del 1944 però le risolveva sempre positivamente io sono convinto che una figura come la sua attraverso la conoscenza delle sue vicende umane i giovani possano capire meglio cosa si intenda per giustizia sociale e libertà e infatti lo proporremo agli studenti delle scuole superiori di Scandicci nei prossimi mesi grazie grazie mille grazie a tutti gli intervenuti ora tocca a Valdo per le conclusioni visto che non ha fatto l'intervento all'inizio ma brevissimo intanto per congratularmi con Samuele Bertinelli per questa interpretazione di Carosci Carosci io l'ho conosciuto in una fase diversa della sua vita quando era durante l'unificazione socialista lui arrivò con i socialdemocratici e mi ricordo io a quell'epoca in una commissione scuola io rappresentavo gli studenti ed ero un pochino di sinistra diciamo e lui ci incavolò moltissimo con me fino a che Codignola lo fece tacere dicendolo smetti l'aldo sembri una pentola di fagioli lascialo parlare e in questo modo mi lasciò parlare ma il libro è veramente molto interessante e molto fine e credo che Samuele l'abbia interpretato molto bene a Enzo Di Brango voglio dire che c'è un piccolo particolare che va aggiunto c'è un piccolo particolare che va aggiunto che Antonio Bernieri fu ucciso dai comunisti a Barcellona e quando Salvemini torna in Italia e fa simbolicamente una lezione dalla cattedra della loro facoltà di lettere in piazza San Marco Salvemini comincia la sua lezione dicendo due allievi Carlo Rosselli ucciso dai fascisti e Camillo Bernieri ucciso dai comunisti devo dire che Bernieri fu ma adesso smetto fu anche nelle poche pagine di Coraggio di Nenni che era legatissimo alla politica unitaria col PC ma sulla morte di Bernieri scrisse un bellissimo articolo come a dire si arrabbiò ecco uso questo termine e lui disse Camillo Bernieri si poteva pensare che morisse su una barricata ma non si poteva pensare che venisse ucciso in quel modo per quanto riguarda diplomazia clandestina anche qui i dieci minuti stati tirannici Lusso addirittura ha ricevuto una valigia di soldi dagli inglesi ma la restituisce perché Lusso dice io vado a cercare di sollevare la Sardegna sulla base di un documento politico sull'Italia di domani gli inglesi rifiutano di fargli questo documento politico e allora lui restituisce i quattrini saluta ringrazia e se ne va sarebbe stato interessante questo esperimento perché il prestigio di Lusso presso gli ex combattenti per tutta la Sardegna era veramente molto alto e quindi probabilmente sarebbe riuscito a fare delle cose importanti devo dire che è appena uscito un film di 50 minuti da Nandata Lustense e Lusso che io raccomando perché effettivamente è una bella biografia di questo di questo personaggio per quanto riguarda Orlandini io lessi sul ponte il suo necrologio quando ero ragazzo quando morì e mi ha sempre affascinato perché Mauro Vanni mi correga se sbaglio prima di andare a combattere in Spagna lui va da Don Sturzo a chiedergli cosa pensa e cosa non facile Sturzo gli risponde se questa è la tua coscienza vai il che credo che sia anche importante e significativo tra l'altro non so se sapete che il portavoce dell'attuale Presidente della Repubblica che è Giovanni Grasso scrisse anni fa un libro sui rapporti Sturzo-Rosselli che è piuttosto originale perché insomma specialmente nell'esilio Sturzo fu molto vicino alla famiglia di ai sopravvissuti della famiglia Rosselli e quando tornano le salme dei fratelli Rosselli a Firenze e lui non viene invitato si arrabbia moltissimo dicendo ma perché mi avete dimenticato questo è un piccolo tassello di storia ma in cui Torino Orlandini c'entra e c'entra pienamente e come avete sentito la sua vita è stata eroica se possiamo aiutare a far pubblicare queste memorie vediamo come si può fare insomma ha ragione Mauro Vanni queste memorie vorrebbero la pena ricoltivarli noi abbiamo fatto il quaderno numero 3 Rosselli per concludere sull'attualità del socialismo liberale e tra l'altro credo di poter rinviare alle cose molto belle che scrive Nadio Orbinati ma questo ci porta un po' a parlare della situazione attuale che è più complessa forse di quello che ci aspettavamo intanto perché ancora una volta in situazioni diverse da Monti è molto diversa ma ancora una volta si è dimostrato che non è che il governo dei tecnici è il governo dei migliori di per sé mobilità consensi e nuove adesioni all'interno della società italiana mi sembra che anche l'idiglio di Mario Draghi con la situazione politico sociale sia in qualche modo un po' incrinato da quello che è avvenuto e anche dal fatto che a mio parere fatte le debiti di eccezioni si vede la mancanza nel governo di figure politiche mi domando se per esempio ma tanto io posso dire quel che voglio perché non conto nulla quindi non c'è problema se un ministro dell'interno un po' più politico non potrebbe forse avere una funzione diversa da quella che è stata esercitata sia pure Benello devolmente dalla nostra prefetto che attualmente regge il ministero ma insomma questo può valere la pena anche per altre situazioni allora perché c'è oggi un interesse verso il socialismo liberale tutti sappiamo che non c'è ripresa non c'è resilienza non c'è risanamento senza un forte incentivo un forte sviluppo dell'imprenditorialità anzi De Rita nell'ultima riunione che fece a Rosselli è convinto che alla fine la molla sia questa di tanti piccoli imprenditori che si ricominceranno a muovere nel tessuto del nostro paese però anche la pandemia ha messo lo scoperto con clamorosa che abbiamo bisogno di beni pubblici a cominciare dalla sanità naturalmente ma a cominciare dalla cura del territorio a cominciare dalla riconversione ideologica e così via tutte cose che nessuno osa dire che il mercato possa assicurare spontaneamente quindi rispetto a una come dire ad una involuzione in senso libera liberista che c'è stata anche da noi pensiamo che appunto l'intervento pubblico in realtà c'è ma non è più consapevole pensiamo alla cassa depositi e prestiti pensiamo alle grandi imprese che sono di fatto possedute dal tesoro ma non più in senso ambitoriale di fronte a questo c'è indubbiamente la necessità di un piano di nuovo questa parola risuona il PNRR di riforme che affrontino la struttura anche se io ho qualche dubbio che quelle che ha proposto l'Unione Europea siano tutte e veramente quelle riforme di cui avremmo in questo momento necessità e di riforme che appunto consentano a questa ripresa così rapida che abbiamo avuto di poi restare duratura di non essere poi esposta ai pericoli che possono sorgere dall'inflazione dalle carenze di materie prime dalla situazione internazionale così involuta perché non dimentichiamoci la situazione internazionale è molto involuta è molto pesante quindi rendere duraturo questo sviluppo e soprattutto farne elemento concreto nella vita di tutti i giorni e qui nonostante che le statistiche siano così buone imprese che muoiono ce ne sono tante e quindi basta fare conti continuamente con decine centinaia di lavoratori che magari sono attinenti a questo o quell'impresa che si trovano in difficoltà allora c'è tante cose da progettare tante cose su cui confrontarsi tante cose da fare cercheremo di muoverci in questo senso però forse c'è anche bisogno di valori e di ideali io sono molto sbarazzino su questo se non sei vicino alla maggioranza inutile tu dica che sei un partito a vocazione maggioritaria ti chiedono qualcosa di più di dire che cosa sei e a questo punto di vista mi domando ma ci sono dei segnali positivi in questa direzione se la cornice socialista liberale non possa essere la cornice giusta per queste elaborazioni politiche programmatiche e proprio in termini di valori proprio in termini di valori non possa essere la cornice giusta perché se è vero che è superato il partito confessionale perché non c'è più la divisione del mondo in blocchi il comunismo è crollato nei modi in cui crollate e così via e allora nemmeno la fusione a freddo tra quello che rimane del mondo cattolico precedente del mondo comunista precedente è di per sé sufficiente a creare una cornice di valori ed ideali certo la situazione non è quella né del 1929 né del 1937 in Rosselli non c'era l'ambiente oppure c'era ma non è il modo in cui lo affrontiamo oggi anche la questione cattolica non c'era nonostante gli orlandini c'era una contrapposizione violenta e frontale col Vaticano oggi una contrapposizione violenta e frontale col Vaticano con Papa Francesco francamente non avrebbe senso spesso più avanti lui di tanti uomini politici nostri ma mi domando se il socialismo liberale non sia semplicemente la giusta coltivazione di un passato avete visto l'iniziativa che ho preso per una sala a Matteotti alla Camera c'è questo iato di conoscenze su cui è assolutamente importante non solo del passato anche se nel passato c'è questo aspetto la tradizione rosselliana è fra le poche che vengono abbastanza universalmente rispettate cioè Tizio Caio Sempronio la sua filone ideale eccetera viene contestato da una parte ecco quando si parla di Rosselli c'è una specie di presentatarno che non dico sia globale non dico sia corale ma largamente è molto diffuso e questo quindi è un portato storico di cui abbiamo bisogno oggi perché lo dicevo prima non basta prendersela con i dirigenti dei partiti ambigui sul tema fascismo dobbiamo prendersela col fatto che c'è tanta gente che vota apertamente che è più nostalgica dei suoi dirigenti facevo prima l'esempio che il primo consigliere più votato in tutte le liste del Comune di Roma si chiama per l'appunto si chiama per l'appunto Mussolini ed è la nipote che ha preso il nome della moglie del duce ci sarà un motivo per cui la gente vota e se la gente vota vuol dire che abbiamo avuto una carenza culturale una carenza di indirizzo eccetera quindi giusto continuare a coltivare il passato ma mi domando se non evidentemente assorbente di tutto per carità ma se vogliamo dotare anche questi partiti che agiscono oggi di valori e di ideali beh forse quello del socialismo liberale può essere uno di quelli validi quelli fecondi di quelli produttivi e ho visto in questo senso anche movimenti nuovi nell'intellettualità nella cultura italiana movimenti di maggiore comprensione e di maggiore interesse in questo senso tutto questo incoraggia a continuare nella fondazione Circo de Rosselli ha incoraggiato a restaurare il monumento a Bagnol de Lorna che è un fatto simbolico ma soprattutto a vedere se anche nel 20-22 che ci aspetta riusciamo a fare iniziative di carattere economico sociale come quelle che abbiamo fatto nel 20-21 meglio possibilmente che possano mordere nella situazione attuale che possano dare un contributo a superare questi problemi anche perché poi la pandemia ha creato delle contrapposizioni dure io ho letto un bella intervista alla Nazione di Marco Levelli che mi è sembrata molto molto felice quando vede gli anti-covid e la violenza diciamo così di questa opposizione lui dice quanto ci vorrà a superare una contrapposizione così violenta che tracce e lascerà nella società italiana e da questo punto di vista un'azione culturale un'azione di dialogo è anche l'unica antidoto per combattere le radici della violenza le radici delle intolleranze pertanto quindi credo che è stato dobbiamo ringraziare chi ci ha illustrato questi libri speriamo di non averne dimenticati sicuramente ne avremmo dimenticati ma rincopriamo l'anno prossimo ma anche queste diciamo presentazioni in qualche modo sintonizzate in qualche modo a confronto credo che siano un elemento attuale in ogni caso era un doveroso momento di conoscenza che la fondazione doveva rendere nei confronti di chi si è mosso su questo terreno e che ha dato dei contributi in questa direzione mi sento quindi di dire che con tutte le mutazioni necessarie un messaggio come quello rossegliano sia attuale e anche quello di cui parlava Samuele cioè della rivoluzione democratica cioè del vero cambiamento dello Stato che è stato assolutamente sottovalutato credo che sia veramente uno degli elementi di fronte a noi perché c'è anche un fondamento etico da cambiare prendiamo l'esempio del reddito di cittadinanza su cui abbiamo fatto uno studio insieme ad Astrid è un bel libro ve lo raccomando c'è chi gli piace c'è chi non gli piace ma io sorpasso un attimo questo aspetto lo mettiamo in essere e che cosa si legge una geremiade di interventi mafiosi di una mafia romena cioè siamo un paese così malato dal punto di vista della corruzione e degli antistati in questo senso non quelli di Rosselli ma quelli di mafia Camorra e Andrangheta che anche un provvedimento con ottime intenzioni poi viene in qualche modo squalificato all'evoluzione pubblica perché c'è una margine non piccola non fisiologica c'è un margine forte di chi se ne abusa e lo prende in altre direzioni quindi questo messaggio anche etico che veniva da giustizia e libertà e poi da Gobetti sulla riforma d'Italia e così via credo che sia qualcosa che sia di estrema attualità ci aspettano tempi non facili e adesso per esempio il grande punto interrogativo è chi sarà il presidente della Repubblica se il centro-sinistra avrà una voce in capitolo o dovrà scegliere fra i candidati del centro-destra e allora io faccio un annuncio ma del tutto top secret naturalmente che ai primi di gennaio uscirà un mio libro sulle elezioni dei presidenti della Repubblica ma spero abbastanza in tempo ma magari da entrare nel dibattito nel dibattito che si sta svolgendo dovrebbe uscire il 4 gennaio se tutto va bene a Dio piacendo e quindi in tempo forse per entrare nel dibattito che ci riguarda io non voglio prendere troppo tempo anche perché chi legge il quaderno sull'attualità del socialismo liberale legge per esempio il contributo di Baratta o quello di Elena Granaglia sono contributi Elena Granaglia che parla delle disuguaglianze delle uguaglianze sono assolutamente contributi fondamentali non li voglio adesso qui rievocare magari in peggio rispetto a quello che ha di fatti ecco quello che possiamo dire facendoci gli auguri perché con molti non ci rivediamo di buon Natale di buon anno nuovo è che siamo consapevoli non solo di coltivare una nostra particolare inclinazione e simpatia verso giustizia e libertà e partito d'azione ma credo che stiamo in qualche modo coltivando qualcosa che può essere utile per l'oggi e per il domani questa è almeno la nostra convinzione ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato e quindi a presto con le nostre nuove iniziative grazie veramente grazie Valdo a questo punto concludiamo la nostra il nostro meeting grazie a tutti e alla prossima arrivederci e auguri grazie a tutti grazie a tutti